Bittersweet, trama puntate, giovedì 27 giugno 2019 Demet si rega nell'ufficio di Ferit. La donna ha un atteggiamento molto strano verso di lui, è risaputo che i suoi sentimenti verso l'architetto sono sempre stati molto passionali. Lajlan capisce le intenzioni della donna e non esita a tenerla lontana. In quel momento la sfortuna vuole che entri in ufficio Akan, che molto infastidito dalla scena, non mancherà di chiedere spiegazioni alla donna. Come si giustificherà a lei? Intanto Najli ha notato il telefonino nuovo della sorella e le chiede spiegazioni. Molto divertente è la scena di lei che cerca di inventarsi le scuse più strane. Tra qualche giorno è il compleanno di Burt e Ferit chiede ai suoi affidatari di poter trascorrere quel giorno con lui per farlo stare sereno e non creargli ulteriori dispiaceri. In un primo momento i coniugi accettano la richiesta ma in seguito Demet non la prenderà affatto bene. Che cosa deciderà di fare la donna? Grazie a tutti.